Ciao da Monica Delle Maestra Cubetti. Continuiamo a parlare dell'operatore logico OR. Vediamo come lavora in Minecraft. Qua sotto potete vedere nell'immagine abbiamo due ingressi, due input e un output. Allora l'output abbiamo detto che sarà la nostra porta di ferro. Gli input sono due e sono le leve. Se la prima leva è azionata, quindi indica vero, la porta si apre. Se viene azionata invece solo la seconda leva, quindi indica ancora vero, la porta si apre. Se vengono azionate entrambe le leve contemporaneamente, la porta si apre. Quindi non è necessario che tutte e due le leve, quindi tutti e due gli input, siano azionati contemporaneamente per realizzare quanto vogliamo con l'output.